Preservare la sicurezza di individui di alto profilo, come politici, uomini d'affari, celebrità o persone con esposizione mediatica, è un compito prezioso. Non è quindi sorprendente che i miliardari spendano enormi somme di denaro in misure di sicurezza multiple e sfaccettate, a volte a costi molto elevati. Oggi concentreremo la nostra curiosità su alcuni miliardari che non lesinano su mezzi finanziari per garantire la loro sicurezza. Eric Schmidt è un uomo d'affari e ingegnere del software americano noto per essere stato CEO di Google per 10 anni e poi presidente esecutivo per 4 anni. In seguito è stato presidente esecutivo di Alphabet dal 2017 al 2020. Ha una fortuna stimata di quasi 21,5 miliardi di dollari. Quando era a Google nel 2017, Google ha speso 296.353 dollari per la sua sicurezza. Warren Buffett è un investitore del mercato azionario e fondatore della Berkshire Hathaway. Con una fortuna valutata in 108,1 miliardi di dollari, sta spendendo 375 mila dollari per misure di sicurezza adeguate a Omaha in seguito al tentativo di irruzione nella sua casa. Tim Cook. Vero nome Timothy Cook. Tim Cook è un ingegnere e business leader americano. È stato l'amministratore delegato della famosa azienda Apple ed è stato anche il direttore operativo di Apple sotto il cofondatore Steve Jobs. La sua fortuna personale è stimata in 1,3 miliardi di dollari. Nel 2019, Apple ha speso 457 mila dollari per la sua sicurezza privata con l'installazione di un server proxy. Dara è un uomo d'affari iraniano-americano e CEO di Uber, una società che sviluppa e gestisce applicazioni mobili che collegano gli utenti con gli autisti, che eseguono servizi di trasporto. Era l'amministratore delegato del gruppo Expedia, una società che gestisce aziende di viaggio. Spende in media 586.500 dollari per la gestione della sua sicurezza personale. Sundar Pekai. Nato a Chennai, India, Sundar Pekai è un uomo d'affari americano e CEO di Google dal 10 agosto 2015. Dopo la ristrutturazione di Google e la creazione della nuova società Alphabet, diventa il capo della suddetta società il 4 dicembre 2019. Google ha speso 1,2 milioni di dollari per garantirgli una buona sicurezza personale nel 2018. Questo è il doppio del suo bonus finanziario per l'anno 2017. Jeff Bezos. Jeff Bezos è un imprenditore americano industriale e attualmente l'uomo più ricco del mondo. Il più grande azionista e CEO di Amazon spende in media 1,6 milioni di dollari per la sicurezza. Larry Ellison. Vero nome Lawrence Joseph Ellison, cofondatore di Oracle e è uomo d'affari. Il miliardario americano spende anche circa 1,6 milioni di dollari per la sicurezza. Sheryl Sandberg. Nata a Washington, Sheryl è una donna d'affari americana e attivista femminista. È stata vicepresidente delle vendite globali online e delle operazioni a Google. Ora è il direttore delle operazioni di Facebook. Sheryl Sandberg non trascura l'importante aspetto della sua sicurezza personale e vi investe 4,3 milioni di dollari. Mark Zuckerberg. Anche Mark Zuckerberg è una figura nota. Il fondatore di Facebook è un informatico americano e un ricco imprenditore. La sicurezza dei dati della rete sociale è inestimabile, così come i dati personali dell'imprenditore. Per cui spende 23 milioni di dollari per garantire la sua sicurezza e quella della sua famiglia. E tu? Quanto saresti disposto a spendere per la sicurezza se fossi uno dei miliardari più ricchi del mondo? Raccontaci tutto nella sezione commenti. È sempre un piacere leggerti. Inoltre, se ti è piaciuto questo video, per favore, dacci un grande pollice blu in alto. Infine, non dimenticate di iscrivervi per essere sicuri di non perdere altri contenuti futuri. Fino ad allora, stammi bene e a presto!